Siamo a oltre tre quarti dallo spoglio dei 4.800 seggi per le elezioni regionali e comincia a delinearsi anche la composizione del nuovo Consiglio regionale. Cominciamo a esaminare la maggioranza da quali consiglieri sarà composta. Allora vediamo che a Torino il PD dovrebbe fare, secondo le nostre proiezioni, una decina di consiglieri e attualmente in testa alle preferenze, ma è un dato provvisorio, inutile precisarlo, abbiamo una terna di consiglieri uscenti, precisamente Davide Gariglio, Laus e la consigliera Pentenero. Seguono poi Gallo, Valle, Boeti, anche lui consigliere uscente, e Cassiani. Questi sono i nomi con il maggior numero, oltre le mille preferenze già in questo momento. Nelle altre province il PD vede in testa in questo momento a Cuneo Francesco Balocco, sindaco uscente di Fossano, seguito da Alemano, sindaco uscente di Saluzzo, ad Alessandria Otria e poi Ravetti. A Dasti la consigliera uscente Motta, a Biella Barazzotto che è stato anche sindaco della città, a Novara Rossi e nel VCO Reschini, attuale capogruppo del PD e che è anche inserito nel listino, quindi avrebbe la doppia elezione per cui dovrebbe optare tra proporzionale e maggioritario. e a Vercelli Corgnati. Ancora nella maggioranza abbiamo la civica per Chiamparino che ha in testa Torino Calgaro e a Cuneo Valmaggia già sindaco della città.